Musica Ben trovati, ben trovati all'appuntamento con Starbene in TV Questa sera con noi c'è la dottoressa Nadia Koscika che è la vicepresidente dell'associazione Alice che si batte per la lotta all'ictus cerebrale Buonasera e bentrovata Buonasera E c'è il dottor Flavio Paoletti, direttore dei servizi sociosanitari dell'Aswitz Buonasera e bentrovata Iniziamo dal forum permanente aziendale sulla disabilità Sono state individuate le associazioni di volontariato e di promozione sociale che vi aderiscono Qual è l'importanza di questo forum? Spiegandolo a chi ci ascolta anche per chiarire bene la cosa Certo, allora il forum, come ha detto lei, un forum permanente significa appunto che continuerà a lavorare non solo quest'anno ma anche negli anni futuri Come direzione sociosanitaria l'abbiamo attivato dopo un incontro con le varie associazioni Quindi in marzo del 2018 abbiamo fatto un bando di adesione per le associazioni hanno aderito 15 associazioni di volontariato e abbiamo iniziato a lavorare fine giugno, circa il 21 giugno abbiamo fatto il decreto di istituzione del forum Questo forum che compiti ha? Il forum ha i compiti di costruire un percorso per le persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale all'interno della nostra città, quindi non solo un discorso di sanità pura ma un discorso di salute Abbiamo attivato sei tavoli di lavoro che riguardano quindi i trasporti secondari quindi come le persone si muovono all'interno della nostra città le persone con disabilità e le facilitazioni che possono avere per arrivare nei servizi sanitari Come ci si muove all'interno dell'ospedale? Ricordiamoci che noi abbiamo due cantiari aperti, uno a Catinara e uno al Maggiore che ovviamente creano dei problemi con le persone che hanno portatori di disabilità e quindi stiamo cercando di creare quelli che definiamo percorsi amici proprio per facilitare l'accesso C'è il problema delle abitazioni, pensiamo abitazioni dopo traumi e così via quindi dove si utilizza la domotica a dare la possibilità di vivere nei propri contesti di vita anche in modo autonomo Un abbattimento totale delle barriere Esatto, esatto e poi abbiamo anche invece il grosso capitolo dell'integrazione sociosanitaria quindi noi aziende assieme al Comune e cosa si fa per dare una continuità delle cure appunto a queste persone Dottoressa Coscica, lei è appunto vicepresidente dell'associazione Alice è già stata responsabile della Stroke Unit direttore della clinica neurologica dell'ospedale di Catinara Intanzitutto spieghiamo cosa fa questa associazione che lotta appunto contro il tema dell'ictus cerebrale e alla conseguente disabilità Certo, beh Alice è un acronimo sta per associazione per la lotta contro l'ictus cerebrale è un'associazione fatta di volontari quindi priva anche di fini di lucro e di utilità sociale noi ci occupiamo soprattutto di divulgare la conoscenza dell'ictus in tutte le maniere possibili perché non dimentichiamoci che l'ictus è la prima causa di disabilità al mondo nelle persone adulte è importantissimo che le persone vengano a conoscenza di quelli che sono i sintomi perché una volta che conoscono i sintomi allora possono attivare i soccorsi possono sollecitare il 112 112 che trasporta i pazienti con il codice rosso al pronto soccorso perché con il codice rosso? perché è una patologia che deve essere inquadrata nel più breve tempo possibile perché una volta inquadrato l'ictus ischemico deve essere trattato con la terapia trombolitica però la terapia trombolitica può essere utilizzata entro 4 ore e mezzo quindi i tempi sono assolutamente essenziali per curare? esatto, sono fondamentali visto che ci siamo, i sintomi per chi ci segue, quali sono per aver subito un quadro chiaro? certo, i sintomi sono i più vari perché possiamo avere disturbi della forza che interessano uno o due arti disturbi della sensibilità tipo formicolio oppure carne morta oppure difficoltà della parola una persona può parlare trascinando un po' la parola come se fosse ubriaca altre volte possiamo avere invece disturbi veri e propri del linguaggio una persona può non riuscire ad esprimersi e può non capire quello che le viene detto o ancora possiamo avere dei disturbi del campo visivo il paziente non riesce ad apprezzare una parte del campo visivo tutti noi vediamo davanti e vediamo anche lateralmente però se abbiamo un sbarramento da un lato non riusciamo ad apprezzare quello che sta oltre oppure possiamo avere anche un fortissimo mal di testa però dobbiamo stare attenti e questo lo dico perché immagino che ci saranno anche tante persone con l'emicrania che ci seguono certo ecco non è che ogni volta che uno ha il mal di testa deve pensare all'ictus e quindi correre in pronto soccorso perché l'emicranico conosce il suo mal di testa il mal di testa nell'ictus ha delle caratteristiche completamente diverse un mal di testa fortissimo mai sperimentato prima ecco abbiamo parlato in apertura chiaramente del tema della disabilità quel dottor Paoletti disabilità che chiariamolo può essere chiaramente la conseguenza di un ictus a vari livelli certo certo infatti come dicevo prima l'ictus è la prima causa di disabilità infatti noi in Italia abbiamo 930.000 pazienti che hanno gli esiti dell'ictus ovviamente con delle disabilità di vario livello ecco però un terzo di questi quindi più di 300.000 persone sono affette da un ictus di tipo medio grave medio grave quindi sono persone che nella migliore dell'ipotesi rimangono a domicilio ovviamente con tutto un coinvolgimento della famiglia perché è un discorso che interessa poi tutta la famiglia altri invece vengono istituzionalizzati e finiscono o in case di riposo o comunque in strutture che possono garantire una degenza a lungo termine però questo comporta dei costi che sono elevati ma non solo dal punto di vista economico anche dal punto di vista proprio psicologico sono difficili proprio da calcolare da qui dottor Paoletti lo sforzo dell'azienda sanitaria per garantire quell'assistenza che dopo l'ospedale va come ormai diciamo spesso sul territorio si diciamo sia fuori dell'ospedale ma anche all'interno dell'ospedale perché come dicevo è appena uscita proprio oggi un'importante ricerca fatta dall'Agena sull'agenzia nazionale che riguarda l'azienda sanitaria assieme a cittadinanza attiva quindi assieme alle associazioni rappresentanti dei cittadini e sono andati ad analizzare quello che viene definita human care, umanizzazione delle cure proprio anche negli ambienti ospedalieri o dei ex ospedalieri e guarda a caso, ma dico in modo drastico, guarda a caso proprio uno degli elementi che sta sotto la soglia del valore standard è proprio l'accessibilità ad esempio all'interno degli ospedali quanto è complesso per una persona disabile muoversi all'interno di un ospedale che solitamente sono grandi edifici anche con barriere architettoniche nonostante siano degli ospedali e con dei percorsi molto complessi e soprattutto però anche quali sono i diritti delle persone con disabilità sia in contesto sanitario ma anche non sanitario e proprio su questo assieme alle 15 associazioni in particolare anche su questo tavolo rappresentato qui dalla dottoressa cercheremo di definire quella che viene definita la carta appunto dei diritti delle persone con disabilità in cui si cercherà di individuare le criticità e dare delle risposte concrete effettivamente per dare appunto sostenibilità a queste persone Dottoressa il tema è quello di garantire pari accessibilità alle strutture come gli ospedali per esempio anche a chi ha questa forma di disabilità perché come insomma credo di aver capito bisogna poi informare anche lo stesso personale medico su forme di disabilità che possono essere molto differenti Ah sicuramente perché abbiamo tanti tipi di disabilità abbiamo quelle motorie, quelle intellettive, cognitive abbiamo quelle visive, uditive quindi ci sono tantissime disabilità infatti uno dei nostri obiettivi è proprio quello anche di fare dei corsi proprio di preparazione del personale sanitario per poter meglio affrontare queste disabilità perché oggi come oggi sì, questa disabilità di vario tipo viene affrontata ma così con il buon senso non ci sono dei protocolli, delle regole fisse cosa che invece noi vorremmo cercare di istituire Anche perché poi Dottor Paoletti c'è l'aspetto della persona malata o che viene fuori da un determinato tipo di percorso ma anche della famiglia che deve acudire, aiutare il malato o la persona che viene fuori da un percorso di cura Ma guardi, non a caso sono qui con il rappresentante di un'associazione penso chi mi conosce lo sa che lo dico da sempre da 35 anni per noi le associazioni sono fondamentali le associazioni vuol dire che sono persone che conoscono la materia che per vari motivi o professionali oppure di famiglia o perché sono loro stessi che hanno avuto o hanno quella patologia cronico-degenerativa chi meglio di loro ci può dare delle indicazioni a noi che siamo alla fine dei tecnici coloro che devono organizzare o amministrare l'ente pubblico darci le informazioni corrette per ritarare i servizi ritarare i percorsi ma ritarare anche la formazione come si diceva adesso perché un'altra cosa che esce anche da questa ricerca è che gli operatori sanitari non sono preparati soprattutto ad assistere persone con patologie e con disabilità molto importanti molto importanti perché la casistica per fortuna è bassa però questo non significa che quando arriva quella persona che ha quella determinata patologia o disabilità ha una serie di diritti ma anche di complessità talmente elevate che se il personale non è preparato alla fine non viene soddisfatto quel bisogno allora stiamo cercando di mettere assieme tutti questi elementi del puzzle per avere poi un quadro complessivo di risposte dottoressa qual è la vita di chi assiste poi una persona che ha avuto un ictus a vari livelli chiaramente di gravità ma che tipo di percorso è e come si sostiene perché penso che anche qui serve un po' d'aiuto sì sicuramente è una vita che cambia ecco perché io credo che quando l'ictus colpisce una persona in una famiglia poi quella malattia diventa un po' la malattia della famiglia coinvolge un po' tutti e quindi tenuto conto anche del fatto che ormai oggi quasi tutti lavorano molto spesso è necessario ricorrere anche ad ausili esterni quindi badanti quindi anche con un sacrificio economico non di poco conto ecco perché la maggior parte delle persone purtroppo viene istituzionalizzata e pochi sono quelli che riescono a rimanere in famiglia certo quindi insomma per di cui ricorso alle strutture esterne molto forte su questo tema vedo che anche dalle indicazioni che vi avete dato il tema dei posti per i disabili della segnaletica adeguata a livello stradale sono le basi per poter poi accedere ai vari edifici per esempio tra le cose più semplici sicuramente sicuramente perché è importante per esempio il discorso dei posteggi ecco adesso arrivare a Catinara per esempio visto che abbiamo tutto un cantiere in piedi è un poco difficile per la persona disabile perché? perché i parcheggi che erano dedicati proprio alla disabilità nel piazzale praticamente sono scomparsi adesso con i lavori e non sono stati sostituiti al di là della cancellata subito adiacente al nosocomio abbiamo pochi parcheggi però anche quelli sono quasi sempre occupati addirittura anche da macchine in doppia fila o da scooter quindi non c'è neanche un po' di rispetto infatti ecco perché uno dice ma lo lascio là 5 minuti però in realtà impedisce l'accesso a quelle che sono le persone che hanno delle criticità e delle difficoltà non da poco dottor Palletti da qui l'impegno infatti su questa tematica proprio il giorno 11 dicembre mi sembra faremo la plenaria di tutti i sei tavoli di lavoro dove porteremo tutte le varie criticità ma anche tutte le proposte quello che è già stato fatto perché in questi due mesi ci siamo impegnati sia anche economicamente come oltre che ovviamente come competenze e così via in quell'incontro verrà anche l'ingegnare che sta curando tutti i cantiari dei due ospedali a rappresentare appunto questi percorsi amici che stiamo mettendo in piedi assieme alle associazioni tra cui ci sono anche i famosi parcheggi dedicati e capire bene dove collocarli l'utilità e per facilitare l'accessibilità quindi prima di andare a realizzarli ci sarà proprio un coordinamento su questo tema assolutamente come dicevo l'obiettivo è fin dall'inizio costruire assieme alle persone capire quali sono le criticità darci un piano di lavoro qualcosa lo faremo in breve qualcosa ci vorrà di più però già abbiamo già impegnato insomma nel prossimo nel prossimo bilancio aziendale stiamo impegnando alcuni fondi proprio per dare risposte concrete anche strutturali su queste tematiche dottoressa qual è l'incidenza nella nostra regione se si può dare qualche dato insomma dell'ictus celebrale i casi o se si può dare qualche statistica che ci faccia capire insomma la portata sì allora diciamo che in Italia in Italia abbiamo circa 196.000 casi di ictus ogni anno quindi una bella cifra noi abbiamo fatto uno studio ancora in clinica neurologica nell'ottica della trombolisi che è appunto il trattamento della fase acuta dell'ictus e abbiamo stimato per quanto riguarda l'area vasta perché ci occupiamo di Trieste e Gorizia messe assieme abbiamo visto che il numero di ictus è intorno ai 930 all'anno quindi insomma numeri numeri molto importanti numeri molto molto importanti sicuramente ovviamente questi prediligono l'età adulta sopra i 65 anni però si possono manifestare a qualsiasi età anche in età giovanile e infantile ecco pur tenuto conto che le cause ovviamente sono completamente diverse rispetto alle persone adulte certo diciamo che nel giro di di un'oretta avevo parlato di due patologie una con l'agmen relativamente ai tumori per i bambini e quindi l'ictus che riguardano un po' come dire se posso usare un termine l'inizio e il fine vita quindi non dico fine vita ma insomma l'età la terza età e l'età proprio più giovane e anche in questo caso vorrei chiedere chi da casa magari in questo momento ci guarda e vuole aiutare l'associazione vuole fare una donazione vuole prestare insomma il proprio aiuto come si fa? beh ci può contattare noi abbiamo una sede abbiamo una sede nel distretto 3 di via Balmaura quindi non ci sono problemi ecco assolutamente bene quindi c'è la possibilità di contattarvi e insomma di mettersi anche in gioco magari per dare un aiuto ovviamente questa incidenza di casi per l'azienda sanitaria significa anche insomma un impegno importante di quanti si occupano specificatamente di questo tipo di patologie assolutamente sì ma anche significa avere una grossa aggancio con i servizi comunali come abbiamo perché come diceva appunto Nadia l'importante è che queste persone non finiscono in un istituto in una casa di riposo se non per scelta ma abbiano il diritto anche di poter vivere a casa propria con i supporti necessari che sono supporti di carattere appunto ausili domotica così via ma anche supporti di carattere psicologico o di compagnia perché molte volte noi parliamo di supporto psicologico ma in realtà la persona ha bisogno di compagnia ha bisogno di uscire ha bisogno di andarsi a bere il caffè come l'ha sempre fatto di andare a teatro perché l'ha sempre fatto voglio dire quindi bisogna avere una città accessibile ma anche dei servizi di supporto che non sono sempre né sanitari né sociali veri ma sono quei servizi assistenziali di supporto complessivi che non è che ci voglia una competenza estrema però ci vuole qualcuno che faccia da regia a tutto questo certo dottoressa avevo parlato tanto dell'accessibilità all'ospedale ma la città come è messa cioè come ci si muove ecco ecco ci si muove forse con un po' di difficoltà e di questo credo che ci siamo resi conto un po' con tutti perché è stata fatta un'iniziativa secondo me splendida nel marzo di quest'anno il fuori città fuori percorso fuori percorso molto molto interessante perché l'azienda sanitaria ha messo a disposizione una cinquantina di carrozzine chi voleva politici compresi sperimentazione diretta sì potevano mettersi seduti e vedere come come funziona il percorso in carrozzina in città ecco quindi uno tocca con mano proprio le le difficoltà perché altrimenti camminando così a piedi uno tende a minimizzare pensa ma sì in fondo non è così non è così difficile ecco mi aggancio a questo solo per dire che molte volte la disabilità non la crea la malattia ma la crea tutto quello che sta attorno alla malattia la creiamo noi la creiamo le barriere architettoniche la non accessibilità e così via se noi togliamo tutto questo è una persona certo che rimarrà con la sua malattia ma non avrà più la disabilità perché riesce esatto grazie agli ospiti di questo appuntamento con star bene in tv speriamo di aver fatto un'opera anche di informazione insomma il più concreta possibile vi do appuntamento al telegiornale di telequattro tra pochissimo a Grazie a tutti.